Spazio dello sportello del cittadino riservato all'Adoc Puglia. I tempi sono cambiati, forse qualche decennio fa l'argomento di cui ci stiamo occupando oggi sarebbe apparso come una pura fantasia, ma i tempi grazie al cielo si evolvono e quindi la vendita online, il commercio elettronico ormai è cosa di tutti i giorni. Eppure si presentano delle situazioni talvolta difficili, degli inghippi per così dire. Ne parliamo con Cinzia Ligusto, l'avvocato Cinzia Ligusto, che è una dei legali di Adoc Puglia. Sì, in effetti oggi la vendita online è ampiamente utilizzata dai consumatori. Qualche piccolo accorgimento per non incorrere in truffe o problemi legati agli acquisti online. Innanzitutto affidarsi a siti che siano conosciuti, che siano affidabili. Verificare sempre, per esempio, che un negozio o una società sia effettivamente esistente, magari con una semplice ricerca su internet, che ci sia una sede legale, che ci sia una sede di questo venditore. E nel caso in cui ci si affidi a siti che mettono in contatto venditori e consumatori e acquirenti, verificare che perlomeno questo venditore abbia qualche feedback precedente positivo. In ogni caso la legge tutela il consumatore. Ci viene incontro ovviamente il codice del consumo, il quale innanzitutto stabilisce che il consumatore possa esercitare il cosiddetto diritto di ripensamento, trattandosi ovviamente di un contratto concluso a distanza. Quindi come tutti i contratti conclusi a distanza, anche questo gode del cosiddetto diritto di ripensamento, cioè della possibilità del consumatore, entro 14 giorni dall'acquisto, di esercitare questo diritto senza nemmeno dover giustificare il perché del ripensamento. E in ogni caso, qualora si incorra in una truffa, quindi magari l'acquisto di un oggetto che non viene poi recapitato, ad esempio, ricordarsi che sul sito della polizia postale che si occupa, nello specifico di questi raggiri, si può effettuare una semplice segnalazione, ma anche una vera e propria denuncia dell'accaduto, registrandola e stampandola, e poi successivamente recapitando la denuncia fisicamente presso un comando della polizia postale, il più vicino al consumatore. Quindi i rimedi, per fortuna, ci sono, ci sono le truffe, però anche i rimedi. E in ogni caso, l'associazione LADOC, l'associazione dei consumatori, è presente sul territorio ed è a disposizione per l'assistenza e per qualsiasi informazione legata a questi disagi.